I'm at a payphone trying to call home all of my change I spent on you Where have the times gone baby it's all wrong where are the players we made for two Ciao a tutti ragazzi, amici di Madae Effect ed Apple Soul Bentornati in questa nuovissima recensione su un nuovo prodotto della rinomata casa Logitech Joystick for iPad comprato su Amazon a 11€ più 6€ di spedizione perché è arrivato in un giorno se no in tempi più lunghi bastavano solo 3€ ecco qui un piccolo manuale di istruzioni questo è il fuderino con scritto Logitech, il marchio della produzione e all'interno il joystick ora lo installeremo e giocheremo, anzi faremo vedere, 3 giochi compatibili con questo aggeggio sono FIFA 12, GTA 3 e Mass Effect inizieremo da FIFA 12 con un amichevole faremo solo poco ragazzi, non facciamo una partita intera perché sennò perdono 25 minuti di video ok, selezioniamo la squadra, il CSKA Mosca qua sta tutto fatto per il mio cognome ok, sfrutta i tuoi giocatori tocca per continuare e noi installiamo il coso posso installare bene dove c'è il pad guardate ok Zagweb Honda Zagweb ok, notate anche che l'uso del joystick è molto fluido si gioca tranquillamente questo è dato anche dalla forma spirale intanto adesso prendiamo gol come dei pagliacci Honda Doom ok ragazzi penso che per FIFA sia tutto ora passeremo a un altro gioco che è GTA 3 GTA 3 è un noto gioco della North Rockstar Games vabbè, era per scherzare il nostro ragazzi allora, GTA 3 ok, ci vediamo inquadrati ciao a tutti loiale ok, riprendiamo e abbiamo già installato giustamente la nostra cosa i personaggi ok anche qui notiamo la fluidità nell'usare questo joystick ovviamente ragazzi questo è un video solo a scopro illustrativo a casa non ripetete le azioni che vedete in questo video soprattutto queste provo a entrare in una macchina tipo entrare dalla polizia che è magari in una macchina o se no guardo se ce n'è qualcun'altra dietro ok ora passeremo a un altro gioco terzo e ultimo gioco Mass Effect il di grafica secondo noi il migliore ok ok ragazzi aspettiamo il caricamento ricordo stiamo recensendo le Logitech Joystick for iPad comprate su Amazon e ora stiamo giocando a Mass Effect 3 faremo pochi attimi ragazzi anche qui il gioco risulta molto fluido ok ragazzi penso che per questo video sia tutto un saluto da Mada Effect ed Apple Sole ciao a tutti